Valerio Talon, nuovo segretario della FEMCIS di Taranto Brindisi. Sotto quali ospici nasce questa nuova avventura? Questa avventura nasce sotto gli ospici più intricati che ci potessimo aspettare in questo periodo. Sappiamo che siamo circondati da situazioni non del tutto piacevoli come territorio, ma abbiamo gli stimoli e la grinta giusta per poterli e volerli affrontare tutti. Per cui l'augurio che ci si può fare come organizzazione e soprattutto come lavoratori tutti è che ci siano buoni spiragli di soluzione per tutte le pertenze che abbiamo in piedi e che ci sia un futuro migliore per tutta la città. Una FEMC che guarda avanti con ottimismo e guarda un futuro più tecnologico? Una FEMC che è molto attenta a quella che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale. In altri paesi è già avanzato e questa volta noi non vogliamo arrivare in ritardo come magari è già successo per altre cose. Ma basti pensare che internet prima era un patrimonio strano di pochi eletti, adesso se tu vuoi ti fai anche la spesa via web, per cui questa cosa non può escludere il mondo del lavoro, tant'è che basta pensare a una fabbrica degli anni 30, gli anni 40, guardate oggi Fiat per esempio, innovazioni tecnologiche ci sono, arrivano, i mercati di Amazon si muovono tutti via web, per cui il sindacato deve imparare a capire, a pensare anche a questo nuovo modo di lavorare e dobbiamo essere là perché anche queste nuove forme di attività avranno bisogno delle nostre tutele. Una sfida nella sfida, l'ILVA. L'ILVA è una grande sfida, è forse la più importante sfida perché intorno a ILVA gira tutto un mondo dell'indotto. Abbiamo cominciato questa sfida nel 2012, orgogliosi delle nostre posizioni, noi abbiamo sempre detto che non abbiamo chiesto a nessuno una fabbrica a prescendere. Noi abbiamo sempre chiesto a una fabbrica che sia rispettosa di ambiente e salute prima, di tutti i cittadini e poi del lavoro, per cui continueremo sulla nostra strada. Siamo convinti che non si possa prescindere dall'importanza dello stabilimento siderurgico, ma altrettanto convinti forse di più che quello stabilimento non debba inquinare. Continueremo a portare avanti la nostra posizione in attesa che si compiano gli atti e soprattutto l'arrivo dell'Agnuco, perché sosteniamo con forza che di acciaio debba parlare chi l'acciaio lo fa. Un giovane per i giovani. Quale messaggio lancia da loro ai tanti simpatizzanti della FIMCIS? Ma io lancio un messaggio non solo ai simpatizzanti della FIMCIS, io lancio un messaggio ai lavoratori. In questo periodo il sindacato è sotto accusa da tutti i punti di vista. Io l'invito che faccio a tutti, se ci sono arrivato io da giovani, invito tutti i giovani a venire a bussare alla nostra porta. Venitelo a vivere in prima persona, venite, fatevi vedere, fatevi trovare e incontriamoci, perché così potrete scoprire il vero mondo sindacale insieme a noi e poi magari avere anche un'idea più completa di quello che, fidatevi che è una cosa fatta bene.